Allora ragazzi oggi vediamo una regola molto importante che migliorerà davvero la vostra conversazione con una ragazza E' un trick molto semplice e voi appena ve lo dico voi Eeeh che cazzo dici? State buoni ascoltate fino alla fine Perché già lo so che appena dico questa cosa voi Grazie io lo sapevo già sta buon la sta un attimo buono Cosa devi fare player ascoltami bene Devi stare cazzo zitto e ascoltare Parla di meno e ascolta di più Un buon comunicatore e prima di tutto un buon ascoltatore Cazzo alle ragazze ma a nessuno in realtà nella vita Piacciono le persone che parlano a ruota libera come dei pappagalli Parlano parlano solo di loro eccetera eccetera Di quanto sono fenomeni di quanto sono fighi Di quanto hanno studiato di quanto hanno lavorato di quanto fanno sport di quanto alzano in panca piana in palestra E non ascoltano nessuno vuole avere a che fare con una persona del genere Perché? Perché ti sembra di parlare con qualcuno che è all'interno della sua bolla E' come se parlasse davanti a uno specchio da solo Parla di cose che interessano solo a lui E questo è un problema che io ve lo dico Cioè molti di voi ragazzi Avete Parlate solo di voi e non ascoltate Ascoltare è fondamentale Perché poi Che cosa succede? Succede che si arriva nel problema del Non so più come continuare la conversazione Perché non sai più come continuare la conversazione? Perché cazzo non ascolti Una volta che hai fatto l'approccio Che quindi hai approcciato la ragazza E state parlando da 30 secondi, 40 secondi E iniziate la conversazione Pian piano, pian piano, pian piano Dovete fare un 30% ad un certo punto della conversazione E far sì che sia lei a parlare E voi dovete stare zitti a ascoltare Quindi davvero un 70% lei parla Un 30% voi ascoltate in maniera intelligente In maniera attiva Quindi vi interessate alla persona Ascoltate tutto ciò che sta dicendo E poi bam rispondete Bam rispondete E' un po' come non lo so Mi è venuta in mente adesso una partita di calcio Neanche una partita di calcio Siete tu e un'altra persona che giocate a calcio Lascia che questa persona Palleggi, palleggi Pa 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 Ti lancia la palla Tu la prendi Un palleggio E la rilancia lei Lei la prende Pa 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 Ti lancia la palla Tu la prendi Un palleggio Rilancia lei Tu devi essere questo Lascia che l'altra persona faccia Tu buono Anzi sai cosa dovete essere Ecco sapete cosa Ibrahimovic Cazzo Zlatan Ibrahimovic Che a me piace un botto Voi dovete stare buoni Zitti davanti alla porta Vi arrivano i palloni Voi fate gol Ok Questa è un po' La metafora del Del stare zitti E ascoltare Quindi Ascoltate E fate delle domande Mirate Delle domande intelligenti Fate delle supposizioni Delle ipotesi Sulla ragazza Su ciò che sta dicendo Fatevi raccontare di più Ma per fare tutto questo Dovete ascoltare in maniera attiva Quindi dovete stare zitti E ascoltare ciò che vi sta dicendo Per esempio La ragazza vi dice Guarda io le prossime vacanze Voglio andare in montagna Bene Questo è ciò che vi ha detto Se voi state zitti E ascoltate qui Non parlate troppo Riuscite a percepire E a recepire delle informazioni Da questa frase Perché una persona che parla troppo La ragazza dice Ah sai che io Questo inverno In vacanza Voglio andare in montagna Quello che parla troppo Dice Ah ok Montagna E inizia a parlare E la soffoca Non fa sì che lei si apra Quello che voi Dovete fare In maniera intelligente È Questo Questo inverno Voglio andare in montagna Zitto Ascolta Recepisci Delle informazioni Chiediti come Quando Vuole andare in montagna Con chi Per quanto tempo Come mai vuole andare in montagna Sa sciare Non sa sciare Ascolta in maniera attiva Ciò che sta dicendo E Fai delle domande mirate Nel modo giusto Cosa che insegniamo Ai ragazzi Che vengono Ai nostri eventi dal vivo I ragazzi che vengono A weekend epico I ragazzi che fanno Dei percorsi personalizzati Sanno ascoltare in maniera attiva Con gli esercizi Che li facciamo fare noi Sanno Come Fare delle domande Mirate Per far sì che la ragazza Si apra E continui a parlare E loro Seduti Che ascoltano Fantastico Quindi Che cosa devi fare Devi sì Raccontare un qualcosa Su di te Dovete raccontare Delle vostre esperienze Assolutamente sì Se state parlando Della montagna Per esempio Va bene dire Ah guarda Io sono stato in montagna L'ultima volta Tre anni fa Sono stato a Cortina È stato figo Bla 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 Ma non dovete Monopolizzare la conversazione Se mi racconti Della tua vacanza A Cortina Va bene Prendi la palla Palleggia Ma lanciala A lei Non fare tutto da solo Se no giochi da solo Quindi non parlarmi Da solo Perché se no Sembra davvero Che non te ne frega Niente di chi è davanti E la persona Che sta conversando Con voi Quindi la ragazza In questione È lì che Ascolta Voi che fate un monologo Voi che parlate Di quanto davvero Siete bravi In palestra Di quanto Le vostre vacanze Appunto in montagna Siano così strafighe Eccetera eccetera E capite che Facendo così Fate anche fatica A creare una Una connessione emotiva Ad entrare in empatia Con una ragazza Perché siete solo voi Che state parlando Dei cazzi vostri Va bene La vostra vita è fantastica Ok Ma dovete Capire questa chiave Anche Alle ragazze Piace tanto parlare Piace tanto Anche parlare di sé Non è vero Johnny stai dicendo cazzate Va bene Fai così Amico mio Sai cosa devi fare Ti do una missione da fare Un pomeriggio Che non hai niente da fare Vai al bar Della tua città Ok Un bar Da solo Vai da solo Ti prendi un caffè Ti siedi Al bar E osservi Ok Inizia a fare questo studio Sociologico Sulle persone Sulle ragazze Vai al bar Ti prendi un caffè E osservi Osserva I gruppetti Di persone Che sono a fianco A te al bar E osserva Come si comportano Le donne Come si comportano Gli uomini Se tu mi becchi Un gruppetto di ragazze Qui a fianco Che sta parlando Quanto parlano Pa 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 Perché questo Perché quest'altro Perché il gossip Perché non hai idea Il mio collega Perché l'altro giorno C'era questa mia amica Che era vestita così Ma non ci credo Ma che outfit aveva Perché di qua Pa 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 E parlano 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 Se tu invece Osservi Un gruppetto Di ragazzi Di a fianco Che cosa fanno Allora Come è andata Il lavoro Va bene bene La collega Quella nuova Era figa Eh Sì sì Strafiga Ottimo Guarda qua Guarda sta figa Su Instagram Che mi ha messo Like No Raga È così È in tutte Che ci pigliamo Per il culo Quindi Detto questo State zitti Ascoltate di più E parlate di meno Lasciate le altre persone Parlare Ascoltate Fatevi raccontare di più Dovete cazzo Essere delle spugne Dovete assorbire Il più possibile Dovete Farvi raccontare Delle esperienze Così da poter imparare Dalle altre persone Così diventerete Persone migliori Quindi ascoltate E interessatevi Genuinamente Alla persona Che avete davanti È fondamentale Questo Ricordatevi Che alle persone Piace parlare Di loro stesse Ok Quindi ascoltate In maniera Attiva Attivamente Ciò che stanno dicendo Così Riuscirete Anche a continuare La conversazione Questo Però se vi interessate Genuinamente A ciò che è da dirvi La vostra La ragazza Con cui state parlando Ok E state Cazzo Zitti E ascoltate Fate parlare Le altre persone Bene Direi che ci siamo Signore e signori Questo video Finisce qua Mettete like Iscrivetevi al canale Perché se no Domani Vi sveglierete E non avrete più Denti In bocca E quindi non riuscirete più A parlare Così vi sta bene State zitti E ascoltate Chi parla Bene Seguiteci anche Su Instagram E se volete informazioni Sui nostri corsi Percorsi dal vivo Weekend epico Giornate d'eroe Eccetera eccetera Scriveteci su Instagram Ok Ciao Bella Ci si vede in giro